Siamo con l'assessore Rosaria Di Meo qui a Torre Gaveta perché come vedete dalle immagini è arrivata una novità per riciclare la plastica. Allora Rosaria, cosa si tratta? Sì, salve, buongiorno a tutti. Oggi siamo sul molo di Torre Gaveta, abbiamo portato la prima macchinetta mangiaplastica. È un ecocompattatore che vi permetterà di introdurre bottiglie di plastica e lattine e in cambio riceverete un ecobonus. È disponibile e utilizzabile da parte di tutti, sia residenti che non. È un modo per produrre l'innovazione. La nostra è una comunità piccola, spesso complessa, ma vogliamo che sia molto innovativa. L'utilizzo vogliamo che sia soprattutto da parte dei giovani. Infatti potevamo scegliere anche uno sconto sulla Tari, però crediamo che non sia abbastanza invoiante e incentivante per i giovani. Quindi vogliamo che siano proprio i giovani i primi utilizzatori di questa grande innovazione che vogliamo portare oggi qui a Bacoli. Ne installiamo infatti una qui a Torre Gaveta e l'altra sarà installata nella villa comunale di Bacoli, di fianco alla macchinetta, alla cassetta dell'acqua. Quindi funzionerà. Lo nostro spot è più ricicli, più vinci. Vorremmo fare proprio una campagna punti con ecobonus per ogni conferimento. Quindi vi prego di utilizzarla tutti. Grazie. Sì, domani facciamo inaugurazione alle ore 12 qui a Torre Gaveta e a Bacoli. Vi aspettiamo tutti, così la inauguriamo insieme. Grazie. Buongiorno a Bacoli. Buongiorno a Bacoli.